Una gara crocevia per i play-off. Domenica, nel girone H di Serie D, si affrontano al Città degli Ulivi proprio la quarta e la quinta classificata, e cioè Bitonto e Fidelisandria, due città distanti poco più di 40 km e legate da antica amicizia, rinsaldata anche nel match d'andata, quando al Degli Ulivi ci fu uno spettacolo serale di pubblico ed in campo, sicuramente di categoria superiore. Una gara tuttavia che nella conferenza pre-gara il tecnico della Fidelis, Alessandro Potenza, ha definito fondamentale per la stagione, ma soprattutto una gara dove non conterà molto la prestazione quanto invece il risultato. Adesso i punti valgono 6, è evidente che è l'importanza della partita. Ci sono delle partite durante la stagione dove conta più di tutto il risultato e a volte probabilmente l'unico aspetto che non si può fare a meno, indipendentemente dalle idee, è proprio l'aspetto caratteriale e di stimoli. Quindi su questo non devo convincere nessuno. Tutti sanno benissimo che è una partita fondamentale e quindi bisogna andare lì a Bitonto per cercare di portare un risultato positivo a casa, sapendo che comunque è una squadra che sta avendo un percorso importante. Il match arriva dopo una settimana di pausa, che tendenzialmente poteva essere positiva, ma in cui la Fidelis ha scontato l'assenza di un paio di pedine importanti come Iannini, Benvenga ed anche l'ultimo, Porcaro, tutti e tre infortunati. Non sarà del match anche Cipolletta, squalificato per una vera emergenza in difesa, che il tecnico dovrà ricomporre attingendo alle risorse tecnico-tattiche di una squadra che ha già dimostrato nel corso della stagione di poter sopperire alle difficoltà anche numeriche. Sempre allo stesso modo, con la consapevolezza che tanti ragazzi, anche che hanno avuto meno spazio quando sono stati chiamati in causa, hanno risposto benissimo. È evidente che magari una piccola difficoltà in difesa ce l'abbiamo, però siamo ben consapevoli di avere un gruppo forte. Il bitonto di Pizzulli è squadra ostica e di cui temere le individualità, ma anche e soprattutto il collettivo, squadra da rispettare per Alessandro Potenza in match che vedrà sicuramente una cornice importante di pubblico per una festa di sport così come già avvenuto nel match d'andata. Bisogna temere comunque una squadra predisposta a giocare, in più c'hanno giocatori che dal punto di vista individuale si spostano gli equilibri. Non bisogna sottovalutare il fatto che comunque c'hanno il vento in poppa perché l'anno scorso ero in eccellenza, quindi ritrovarsi al primo anno in Serie D, quarti in classifica, secondo me potevano avere anche qualche punto in più. hanno, ripeto, una cosa importante, quindi bisogna rispettarli come abbiamo fatto sempre con tutti, ma con la consapevolezza che rimane sempre una partita di calcio e quindi bisogna essere assolutamente coraggiosi e vogliosi.